Oh bella a tutti, oh bella raga, siamo sempre per con un beccone nella skyblock factory o quello che è Vediamo oggi cosa andremo a fare, ci porteremo avanti sperando di non esplodere del tutto Ok ragazzi penitenze attive, penitenze attive, penitenze attive, ce ne avevamo diventati già delle penitenze Raga quindi ogni sub, le sub ci stanno i creeper sulla testa, qua sotto vedete tutte le varie cosette belle e brutte Povero gabbiano, ha perduto la compagna, vola gabbiano vola, vola, vai a volare, vola, ha volato, ha visto, ha perduto la compagna Oh ma è quello vero questo, cosa mi ha rubato, oh, molto gentile, ma quanta roba hai scusa, ragazzi abbiamo un problema La roba, la tua roba No la tua, tutta la roba buona, aspetta Ma, 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 ma c'è il gabbiano, la voi, chi vuole? Ovelo, a pelo No No, no, ragazzi, 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 ragazzi Oh, Gesù Cristo Santo Tanto adesso dobbiamo fare, la sua farina Allora, Ivi, Ivi, droppo adesso tutte le cose che non mi servono in mio inventario, so, cavoli vostri Prendete Siete voi qui Vabbè Capisco, qua Mi metto subito ad upgradeare tutto Allora, diamond wand e vado ragazzi Vado a upgradeare tutto quanto Quindi Oh no Madonna mia Prima upgrada Mi metto le due C'è ragazzi dalle mie Ah, regà c'è un fantasma Aiuto Attaccalo, attaccalo Aiuto Oh no, no è me Oddio santo Mamma mia ragazzi come io non lo so Sono vivo Allora, un attimo ragazzi Prima che apriamo questo e scoppia l'ira di dio Possiamo almeno far finta di aver completato Questa parte Ok, ok ragazzi Il nostro gerinetto si sta espandendo Ma c'è un problema ragazzi C'è un problema Fatemi postare questa sub Dobbiamo aprire Lo chance cube Koi, 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 Koi Dobbiamo fare il rito Koi, vai con il rito Me lo sono dimenticato Koi lo si Ambo Vai con il rito Eeeh No, no va bene così Koi No, ne sono graziato, ne sono graziato Ne sono graziato Koi Oh È divino Koi è divino Questo No, no, ma perché Ma perché dovete farmi queste cose Non abbiamo fatto nulla noi Oddio, mio santissimo Oddio Mi ho cagliato Sopra cembellina Ma non muore Ma chi accetta di C'ho Scusami Ragazzi È arrivato il momento Apriamolo Vai Gesù Cristo No No Emerald contro Ramager Ramager Aiuto Aiuto Spacca 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 Non posso uscire Ti lato, ti lato Em Ah, non puoi uscire tu Fammi spaccare Fammi spaccare No, l'amogus No, amogus Vieni qui, vieni qui Em Datemi una roba Non posso uscire Come non puoi uscire? Non posso uscire Dov'è forza a matarlo Sta morrendo, sta morrendo Ma io bello, non sto morendo soffocato Sta morendo soff... Non ci voglio, non ci voglio Ma ha fatto malissimo, Brody Calma, mi fai un buco sopra? Ah Ok, però è tornato È meglio È tornato tutto Tutto è tornato come prima Meglio Grazie, Brody No No Non farlo morire Oh, aspetta che lo attacca L'attacca, l'attacca Aspetta che lo vuole attaccare Sì, sicuro Sì, sicuro Vai Sicuro Vai piccolo Ok Vedi il crafting C'è un problema? C'è un problema Cambi Cambi vostri E mo, che ci facciamo con sto Giorgio? Io faccio Sto bene Ci faccio Sto bene No No, 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 no Rega, rega, rega Pazzi A posto Bravissimi Bravi, raga Bravi, bravi Fate caso Nella pozza più grande, raga No, mi sono messa nella slab Abbiamo Raga, c'è un problema Raga, c'è un problema No, no, no Ok, ok, ok Ma c'è tutti i power up Fatto Fatto, fatto Allora, raga, niente Ti do sto tanto aspettare su il nick di Dalla Se ce l'ha Di Minecraft Aaaaaah Ragazzi abbiamo un problema Abbiamo un problema Abbiamo un problema L'avete capito C'è un problemissimo È grosso Raga, c'è un problema Summerly Ha fatto sedere Joker dieci volte Che succede? No Ah No, no, no C'è Aaaaaah No, altri cinque Ma come altri cinque? Ma che è? No, no, no Raga, abbiamo un problema Sto minando tutto Tutto Eh, c'è un problema grossissimo, raga Sto minando Oh Ah, cerchi di darvi la mano, ragazzi Oh Aiuto Aaaaaah Oddio, non è esplosso Aiuto, 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 aiuto No Stiamo ce l'hanno con me, perfetto Ah Bravo, Em No Bravo, Em Ragazzi, mi do ti parla a voi Non Non ne hai I Gno, gno, gno La mia tomba, la mia tomba Aspetta, sono gallato Fali esplodere Ok, meglio Non l'ho risolto prima Aiuto Ma quanto è Durududu 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 Non è esplosso, per l'amore di Dio Perfetto Gesù Cristo No, 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 no Sono vivo Io non ho più un'arma Io me la so per craftare Oh, fammi fare Ok Fammi fare una spada in diamante Allora A me serve un attimo la Legno Stichetti Qual è Qual è Iiii Ma cos'è Mister Sniper Grazie per i due Ma questo è velocissimo È velocissimo Ci penso, Yambo Nell'acqua Nell'acqua Dai la stacqua Ok 5 barrel Bastano Sì Dai No, 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 no No, no, no Le ciste No Guarda che è sfidato Guarda come corre Si corre tantissimo Ok A posto Con questo abbiamo fatto Tipo penso Uno stack bingo Di ogni tipo Sì abbiamo fatto un sacco di roba Raga Incredibile Cioè così si farma easy Non serve per gli abbonati Per quelle mod No Non è nei miei piani Raga Aiuto Come no 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 Ah Xyuderof Grazie mille Per i due mesi Eh Vuole essere salutato da te Però Come Se dice che sei il suo italo Non ho io Sì Xyuderof Ciao Xyuderof Hai visto Ma deve fare sempre la solita forma In quel modo Come lo facciamo Ah no Lo facciamo Una stanza Praticamente In cui Ambo Ti do Aspetta Tieni Ma secondo te Secondo te Se lo uccide Vada What up Oddio il gabbiano ci sta aiutando Grande gabbiano Cioè grazie mille per i cinque mesi Grazie mille Gentilissimo Gentilissimo Gabbiano Grazie gabbiano Allora cos'è che vendi Cosa vendi Il fuoco Tieni 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 Ti do dello smeraldo Dammi qualcosa di bello Ambo però E' sponato l'uccello E' l'uccello di fuoco Vai gabbiano Seguilo E' caduto Gabbiano salvati Aspetta Prendi la cosa Prendi la carne da pesca Un solo grinder Sei sicuro? Sì 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 Capisco Raga devo scappare No 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 Via 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 What up What up Mamma mia che potenza Devo scappare Ma come? Raga qua abbiamo Ma che E poi non togliere le torce Ma no Ho sbagliato Tieni questo il crook E ma è qua sotto come facciamo poi? Dobbiamo farli cadere praticamente Dobbiamo far tipo un layer più in basso? E' per quello che ti sto dicendo Anche questi qua Guarda quanto spingono questi No 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 Decisamente no 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 Ah Ah E' caduto Oddio Sono caduto anch'io E' già spinta la fan Raga dove è la tomb? Raga dove sono qui Ah sono qui sono qui Ok E' successo ragazzi Un problemuccio Ma l'abbiamo risolto Tipo ci mettiamo qua Stiamo facendo No aspetta Ma se facessimo Aspetta di Oh no Questo è un problema Oh no Eh Ambo ce l'ha con te Ambo Eh mi ha attirato una laggatina A posto Ok vai spectator Ah aspetta Oh no Magari dopo Eh vabbò Eh vabbè raga E' andata E' andata Ciurma vi do un bacione Un abbraccione Eh raga Dallo vostro cammino è tutto Ciurma Ciao a tutti Bye bye